Ciao a tutti ragazzi, sono Mano98 di Red Italia e siamo su un nuovo video Allora, questo è un bellissimo video perché inizia i Red Italia sponsorizzano Allora, è un progetto... È un progetto che avevamo già in mente dove sponsorizziamo il vostro canale Per farla breve Allora, sponsorizziamo il vostro canale Non dipende, cioè, come posso dire Non dipende da quanti iscritti avete Potete avere anche zero iscritti Un video, però noi vi sponsorizziamo lo stesso E come si fa a partecipare a questa sponsorizzazione? Allora, dovete commentare con partecipo Commentare con partecipo e stare molto attivi sul nostro canale Cioè, commentare, mettere like Ovviamente dovete essere iscritti Perché se vediamo che commentate, mettete like Però non siete iscritti Voi non partecipate alla sponsorizzazione La sponsorizzazione la facciamo una ogni due settimane E ogni due settimane andiamo a vedere... Non vediamo tutti i video Vedremo solo... Adesso vi faccio i video più recenti Perché non è che andiamo a vedere, che ne so... Il video di inizio canale Tipo Point Blank Se non mi ricordo male Che è tipo di un anno fa E non vado a vedere quello Cioè, devono sfogliare tutti i video Guarderemo molto i più recenti Poi qualche volta vedremo anche quelli meno... Quelli meno recenti E come possiamo... Allora, per decidere chi sponsorizzare Noi ovviamente non abbiamo la top fan Perché siamo ancora a 452 iscritti Ma, come posso dire Decideremo tutti insieme Cioè, io Dawan Andre Nico E basta Andre Dawan Nico Io Vabbè Decideremo Quello lì Che ne so Andremo a votazioni Vedremo chi Commenta Mette like di più E poi Sceglieremo Oltre o quattro Poi votiamo Chi vota Di Sponsorizzare Già Peppino E Vedremo chi ha più voti E lo sponsorizzeremo Ovviamente la sponsorizzazione Sarà su due video O su due video Di Delle intro Che faranno Andro Tauan O anche su I video Di Me Nico Anche Mario E Ovviamente Commentate Su qualsiasi video Anche Tipo il mio Che faccio I gameplay Anche di Nico Anche le intro E Vabbè Quando Pozzucotto Quindi Ricapitoliamo Tutto da capo Allora Per partecipare Alla sponsorizzazione Dovete commentare Con partecipo Iscriversi al canale Essere molto attivi Nel canale Cioè Commentare Il La La Sponsorizzazione La prima sponsorizzazione Sarà fra Due settimane Quindi avete molto tempo Anche per vedere Il video Anche 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 Io Giupare Al Cesso Automatico Quindi Se andrà Bene La prima sponsorizzazione Noi Continueremo E Quindi Spero Di essere Stato Abbastanza Preciso Però Mi sa Che Non lo so Perché Sono le Dieci E sono Bastante Starco Quindi Da Mala98 E da Tutti Red Italia Tutto al prossimo video